Siamo in un video di Among Us Iniziamo subito Siamo crewmate Allora andiamo a fare subito qualche task In O2 Ossigeno Ne mettiamo tutti questi Le foglie Allora ragazzi Questo qua se non ha raggiunto 10 like 10 episodici Cioè non ha raggiunto i 5 like Questo sarà l'ultimo video di Among Us Perché noi abbiamo visto che Prima i video di Among Us facevano molte più visualizzazioni Ora molto meno e anche Cioè in giro si gioca molto meno Cioè magari su youtube Si le gioca molte meno persone Quindi ragazzi Se questo video non ha raggiunto i 5 like Among Us non lo porteremo più E cambieremo il gioco Questo giorno metteremo un'altra volta Con stars Ma oltre probabilmente Broke Stars Così due video a settimana di Brollo Due video a settimana di FIFA E tre di Fortnite Poi vedremo Dipende da quanti like Vi uso Era questo video E allora Iniziamo subito con Scrivamo Where Allora Io ho avuto un po' di sospetti Sul bianco Perché non aveva riportato Il giocatore morto Quindi ho detto Vabbè Forse il bianco Vabbè Io ho schippato Perché non ero sicuro Del white E poi non mi ricordo Mai bene il colore Che Ha capito Quindi Continuiamo con la partita Loro hanno Cioè Gli altri hanno Stanno votando Oppure stanno schippando Stavano votando Mi pare il blu Molti hanno votato il blu Mi pare Quindi Ragazzi vedrete Non mi puoi sbolerare tanto E tutti si votano Io ho schippato Perché secondo me Era la cosa migliore Perché Non sapevo tanto bene Chi votare Quindi ho schippato Ma ancora Stiamo facendo Stiamo provando a capire Chi deve Non schippare Chi deve votare Comunque una cosa Che non è bellissima Però diamo un gas Che Non quittano più le persone E Almeno chi non è Che non è Impostare Non quitta Allora Continuiamo E andiamo Al reattore Dov'è Ora ragazzi Vi dico l'altro sospetto Che avevano Ho fatto questa task Perché questo qua Mi stava inseguendo Come un pazzo Io Mi sono scappato Ho visto gli altri Pensavo vabbè Ci sono gli altri Ci sono andato con loro Perché tanto Mi difendevano sicuramente Ho visto che c'erano Solo due impostori Quindi Non potevano essere Tra questo E ho fatto la task Se volevo solo Andarmene via Dal White Del bianco Ero ormai Sicuro Che era lui Stiamo andando Verso Su Allora Ok Hanno reportato Vediamo Ti votiamo Innocenze 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 Secondo me non è Io ho votato subito Del white Questa In questo caso Quindi Se voi vedete Che ho votato Del white È perché Secondo me Era il white E gli altri Non hanno votato L'ho scritto Io ho scritto A un certo punto White Light blue Light blue Io ho votato il white Il bianco E ho L'ho scritto Allora Quindi Era il white Secondo me Poi Non lo so Però ragazzi Come sapete Che io sono un investigatore Di Among Us Indovino sempre Chi è Non ho le hack E che mi fanno pensare Tutti questi sospetti Ai giocatori Non era l'impostore Questo lo sapevamo Quindi Molto probabilmente È il white Voi non lo sapete ancora Ve lo dico Allora Faccio questa task Velocemente La colore Quindi subito Arretto Ok Ora Il yellow What the fuck Ok Ora What 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 Lo dico subito What Questo dice Well Yellow Is What Ok Quindi Molto probabilmente Voteranno Il white Dai White Ok Voto White Ogni volta Il correttore Fa schifo E non so perché Non mi ha Cancellato tutto Vabbè Vediamo Votate Votate il white Votate il white Votate il white Votano il white Il bianco E' bruttissimo E' bruttissimo dire Votate il white Però Votate il white Però vabbè Votate il white Allora E' impostore Yeah Ne abbiamo votato bene Come sempre Lì sono un investigatore Raga Andiamo in admin Admin Allora No Yeah E' un sacco di tasche E' un sacco di tasche E qua Il rosso Mi è tranquillato Ero super in panico Perché non sapevo Se il rosso Era l'impostore E' arrivato un altro Quindi ho detto Vabbè Niente da fare Scappo Sono andato a fare Un altro po' di tasche Tipo questa cosa Non avevo fatto Per quello Ora Là c'era Lo stagno Con questa tasche Perché era Molto Con la stagno Con le tasche Ok Avevo finito Qua Ora ragazzi Sto Finendo Le tasche Mi hanno Intrappolato Ok Io ho scritto Chi era Il red Mi vorrei Sì Il red Ok Ciao Ragazzi Ciao Iscrivetevi al canale Lasciate il like E attivate la campanella